Siamo qui con Salvatore al bar Il Chiosco da Zio Biagio, no? Salvatore. Abbiamo mangiato due panini e adesso stiamo aspettando le patatine di Marco. Come hai visto questo pranzo, si tra amici? Guarda, questo pranzo l'ho visto molto bello. Cioè, abbiamo mangiato, ci stiamo divertendo, è molto accogliente come locale. Anche perché non siamo al solito posto, perciò non c'è la solita gente. Giusto, intanto sta arrivando Marco con le patatine, dici un tuo commento su questa visione. Su questa visione è un buon commento, perché se mangiamo queste patate... No, se mangiamogli a lui... Perché a me me le hai prese? Scusa, due porzioni, ne ha messo manco una lira. A quanto te lo dà? Eh sì... 1,50 euro. Eh sì. Vabbè, ora le diamo, dai. No, ho capito, ripetilo. Mo' le diamo. È tutto registrato, perciò non puoi barare. Non posso barare perché non sto al cimitero. Giusto. Perciò, prima di concludere questa chiacchierata, insomma, saluta un po' tutti i tuoi amici. Ciao, vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Eh però, di chi sei? Da? Un saluto, da? Da salvo. Grazie. Grazie. Grazie.